ci vuole una certa maestria per attaccare un bottone un bottone si attacca infilando l'ago col filo forte a quattro fili affinché venga bello resistente poi si passa attraverso i buchi del bottone tre volte da una parte tre dall'altra infilando l'ago da sotto sopra creando poi uno spazio per infilare naturalmente il davanti sinistro sul destro ecco il davanti questo deve andare sotto il bottone e c'è lo spazio creato apposta affinché non faccia nessun difetto